Dopo la morte di Gianni Carrozzi, l'ex carabiniere 44 anni di Paganica, che un testimone, un operaio seduto su una panchina sulle sponde del raiale, ha visto cadere giù sabato scorso dalle rocce che sovrastano l'ermo della Madonna d'Appari, ora l'attenzione si sposta sulla sicurezza del sentiero, che dal raiale si inerpica attraverso la montagna. Sentiero realizzato 4 anni fa dagli usi civici di Paganica. Le ragioni della caduta dell'uomo molto conosciuto sono ancora al vaglio degli inquirenti. Oggi l'autopsia potrà dare un contributo alle indagini, ma intanto dagli esperti l'appello a mantenere sempre alta l'attenzione anche quando si affrontano sentieri familiari e facilmente accessibili. E' un sentiero che si può fare tranquillamente anche ai bambini da soli. Non è pericoloso come sentiero perché ci stanno le corde che ti agganci. Un sentiero che è stato recuperato dagli usi civici di Paganica 3 o 4 anni fa, sistemato, riaperto, organizzato anche con delle corde di passamano che però nel tempo sono stati consumati dall'usura, forse anche un po' presi di mira dai vandali. Al termine di un breve camminamento dove ci sono delle scalette realizzate dagli usi civici di Paganica con dei sostegni di legno, il sentiero si avvicina in un punto dove presumibilmente potrebbe essersi affacciato Gianni Carrozzi in maniera che poi appunto gli è purtroppo costata la vita. Qui il sentiero è facilmente accessibile come potete vedere, bastano pochissimi passi e alle nostre spalle c'è un dirupo di 60-70 metri. Ora le indagini sono in corso quindi tutti i condizionali sono d'obbligo ma Gianni che conosceva bene queste zone perché qui ci ha cresciuto e ci veniva a correre e a camminare da sempre potrebbe essersi appunto sporto a questa altezza. Bastano veramente pochissimi passi per arrivare in questa sorta di ritrovo, qui c'è un barbecue ma che ha a pochi passi, neanche mezzo metro forse dietro la staccionata che sarà realizzata dagli usi civici, un reale pericolo. Non è il sentiero essere il pericolo, il pericolo è come si affronta e le regole che il sentiero impone, cioè non abbandonarlo per esempio. Il consiglio che posso dare è una barriera visiva, assolutamente non scavalcarla perché è lì apposta per ricordarcelo, per cui non è da attraversarla, scavalcarla è da shock insomma. Ritengo sia una scelta assolutamente non percorribile. Io penso sia fondamentale l'approccio che si ha con l'ambiente e la consapevolezza comunque di entrare in un ambiente imperfio che non è propriamente a misura d'uomo. Per cui percorrerlo con la giusta consapevolezza, questo è fondamentale. Farsi accompagnare è un altro elemento decisivo per trascorrere una bella giornata e lontano dai pericoli. Per cui credo che la consapevolezza delle proprie capacità è fondamentale.